Sei imbarazzata Cristina? Un po', un po' sì. Perché? È un sentimento bellissimo però che ancora non sono abituata troppo ad esternarlo, quindi mi emoziona. Ho anche quel senso di pudore che comunque mi porto anche dalla mia esperienza passata, quindi parlarne così apertamente è sempre un po' una faticaccia, una sudata. Però è una cosa bellissima, quindi intanto grazie per questa clip. Cristina, noi abbiamo provato a cercare un segnale da parte di questa persona, che poteva essere magari un messaggio, una lettera, qualcosa, però non ci siamo riusciti, devo essere onesta. Ok. Ti dispiace? Ci sei rimasta male? Eh, beh, direi. Ho chiesto allo spirito dell'isola un segnale. E noi abbiamo provato, però siamo fiduciosi che magari se dovesse arrivare in finale, magari possa battere un colpo, non so, vuoi fare un altro, magari facciamo un altro appello, visto che siamo alla semifinale per la prossima puntata. Grazie. 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 Grazie.